8 tonnellate di sigarette sequestrate e 9 arresti è l'esito di un'operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno che questa mattina ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 9 indagati ritenuti appartenenti ad un'associazione dedita al contrabbando di sigarette verosimilmente provenienti dall'Est Europa. Le indagini hanno consentito di ricostruire la spedizione di 4 container per un totale di oltre 33 tonnellate di tabacchi lavorati esteri che a bordo di auto articolati hanno viaggiato dal centro Italia, Bologna e Dancona fino a raggiungere Battipaglia. Ben definiti i ruoli dell'organizzazione alcuni curavano il viaggio, i contatti con i fornitori e gli acquirenti finali altri invece avevano il compito di individuare i locali chiusi e non visibili dall'esterno dove effettuare le operazioni di trasbordo del carico. L'organizzazione disponeva di una base operativa per lo stoccaggio degli ingenti quantitativi di tabacchi lavorati esteri presso un capannone di Battipaglia. Un primo intervento delle fiamme gialle salernitane aveva portato già nel novembre del 2017 al sequestro di oltre 8 tonnellate di sigarette all'arresto dei quattro contrabbandieri intenti a sistemare la merce in un capannone dell'area industriale di Battipaglia. Le sigarette sequestrate recavano tutto il marchio origina. Si tratta delle cosiddette chip white prodotte a basso costo che non essendo destinato al mercato nazionale non riporta neanche le avvertenze sui pericoli per la salute dei fumatori. Si trovano sulle bancarelle a prezzi variabili intorno ai 3 euro al pacchetto. Due degli indagati sprovvisti di mezzi di sostentamento avevano pure chiesto ed ottenuto il reddito di cittadinanza che è stato sospeso con l'esecuzione della misura cautelare.